l'amore non bada a caste né il sonno a un letto rotto io andai in cerca d'amore e mi persi proverbio in due in qualsiasi circostanza un uomo dovrebbe sempre rimanere fedele alla propria casta razza e stirpe che i bianchi stiano coi bianchi e neri con i neri allora qualunque cosa accada rientra nel normale corso degli eventi non è né improvviso né strano né imprevisto questa è la storia di un uomo che oltrepassò deliberatamente i limiti sicuri della rispettabile convivenza quotidiana e pagò un prezzo molto alto in primo luogo sapeva troppo e poi vide troppo si interessò troppo alla vita indigena ma non lo farà mai più lontano sprofondato nel cuore della città dietro i bustei di cita meci c'è il di amirnat che termina in un muro cieco sul quale si apre una sola finestra munita di una grata all'inizio del vicolo c'è una grossa vaccheria e i muri su entrambi i lati del vicolo sono privi di finestre né su chet singh né gaur chand approvano che le loro donne vedano il mondo se durga charan fosse stata della stessa opinione oggi sarebbe un uomo più felice e la piccola bisessa potrebbe impastare con le proprie mani il pane che manza la sua stanza guardava attraverso la finestra con la grata nello stretto vicolo buio dove non arrivava mai il sole e dove i bufali sguazzavano nel liquame azzurro era una di circa quindici anni e pregava gli dei giorno e notte che le mandassero un amante perché non si rassegnava a vivere sola un giorno un uomo di nome traiago girovagando da quelle parti capitò nel vicolo di amirnat e dopo aver oltrepassato i bufali inciampò in un grosso mucchio di foraggio allora vide che il vicolo era senza uscita e udì una risatina dietro la finestra con la grata era una risatina graziosa e treiago sapendo che per qualsiasi scopo pratico le vecchie mille e una notte costituiscono una valida guida giunse fin sotto la finestra e sussurrò quella strofa del canto d'amore di ardial che inizia può un uomo ster dritto in faccia al sole ignudo un innamorato alla presenza della propria amata se i piedi mi tradiscono o cuore del mio cuore son forse da biasimare essendo accecato dalla visione fugace della tua bellezza da dietro la grata giunse il fioco tintinio di braccialetti femminili una vocina riprese il canto dal quinto verso ahimè ahimè può forse la luna dire al loto del proprio amore quando i cancelli del cielo sono chiusi e le nubi s'addensano per le piogge han preso la mia amata e l'hanno condotta al nord con dei cavalli da soma mi sono catene di ferro ai piedi che erano posati sul mio cuore chiamate gli arcieri affinché si preparino la voce si interruppe all'improvviso e tre iago uscì dal vicolo di amirnat chiedendosi chi mai potesse completare con tanta precisione il canto di amore di ardial il mattino seguente mentre si regava in ufficio una vecchia gettò un pacchetto nel suo calesse dentro il pacchetto c'era la metà di un braccialetto di vetro rotto un fiore rosso sangue di dac un pizzico di bussa o foraggio per il bestiame e undici semi di cardamono quel pacchetto era una lettera non una lettera sgraziata e compromettente ma un innocente inintelleggibile pistola d'amore come ho detto di queste cose tre iago se ne intendeva anche troppo nessun inglese dovrebbe essere in grado di tradurre lettere composte di oggetti ma tre iago sparse tutte quelle carabattole sul coperchio della valigetta da ufficio e iniziò a decifrarne il significato un braccialetto di vetro rotto indica in tutta l'india una vedova in due poiché quando muore il marito alla donna vengono infranti i braccialetti ai polsi così tre iago chiarì il significato del frammento di vetro il fiore di dac può significare cose diverse desiderio vieni scrivi o pericolo a seconda degli oggetti che le accompagnano un seme di cardamono significa gelosia ma quando in una lettera di questo genere un oggetto è duplicato perde il suo significato simbolico ed ha semplicemente una indicazione di tempo o si è accompagnato da incenso giuncata o zafferano di luogo il messaggio dunque diceva una vedova fiore di dac e bussa alle undici il pizzico di bussa illuminò tre iago e gli capì questo tipo di lettera lascia molto all'intuito che la bussa si riferiva al grosso mucchio di foraggio sul quale era caduto nel vicolo di amirnat e che il messaggio doveva venire dalla persona nascosta dietro la grata che era una vedova quindi il messaggio diceva una vedova nel vicolo dove c'è il mucchio di bussa desidera che tu venga alle undici priago gettò tutte quelle cianfusaglie nel cammino e risa sapeva che in oriente gli uomini non fanno l'amore sotto le finestre alle undici di mattina e le donne fissano gli appuntamenti con una settimana di anticipo così quella sera stessa alle undici si recò nel vicolo di amirnat avvolto in un burca che nasconde sia un uomo che una donna non appena i gong della città batterono l'ora la cucina dietro la grata riprese il canto d'amore di ardial dal verso in cui la ragazza patan invoca ardial perché ritorni nel dialetto indigeno il canto è molto bello tradotto perde il suo carattere lamentoso dice pressa poco così sola sui tetti delle case al nord mi volgo e guardo i lampi nel cielo l'incanto dei tuoi passi nel nord ritorna mio diletto altrimenti morrò ai miei piedi silenzioso si stende il bazar molto molto più in basso riposano i cammelli stanchi i cammelli e i prigionieri della tua razzia ritorna mio diletto altrimenti morrò la moglie di mio padre è vecchia e arcinia e di tutta la casa paterna sono io la bestia da soma dolore il mio pane e lacrime la mia bevanda ritorna mio diletto altrimenti morrò quando il canto finì tra iago andò sotto la grata e sussurrò sono qui missessa era bella a vedersi quella notte segnò l'inizio di molte cose strane e di una doppia vita così pazzesca che ancora oggi alle volte tra iago si domanda se non sia stato tutto un sogno missessa o la sua anziana serva che aveva recapitato la lettera composta di oggetti aveva staccato la pesante grata dalla cornice di mattoni cosicché la finestra poté scivolare all'interno lasciando soltanto un riquadro di mattoni grezzi nel quale un uomo agile poteva arrampecarsi di giorno tra iago svolgeva il consueto lavoro d'ufficio o indossava gli abiti da visita e andava a trovare le signore della comunità inglese chiedendosi fino a quando avrebbero continuato a riceverlo se avessero saputo della povera piccola bisessa di notte quando tutta la città era silenziosa compiva la passeggiata sotto la burca maleodorante la ricognizione attraverso buste di gita mejì la rapida svolta nel vicolo di amirnat tra il bestiame addormentato e i muri ciechi e poi finalmente trovava bisessa e il respiro profondo e regolare della vecchia addormentata fuori dalla porta della spoglia stanzetta che durga charan aveva destinato alla figlia di sua sorella ch'io che cosa fosse durga charan tra iago non lo chiese mai e perché non venisse scoperto e accoltellato non gli posso mai per la testa finché la sua pazzia non ebbe fine e bisessa ma questo viene dopo bisessa rappresentava un piacere senza fine per tra iago era ignorante come un uccello e le sue versioni distorte dei rumori che le giungevano dal mondo esterno divertivano tra iago quasi quanto i suoi blesi tentativi di pronunciare il suo nome christopher la prima sillaba costituì sempre una difficoltà insormontabile e lei faceva dei piccoli gesti buffi con le mani simili a foglie di rosa come se volesse gettare via il nome e poi inginocchiandosi davanti a tra iago si domandava proprio come farebbe una donna inglese se fosse certo di amarla tra iago giurava di amarla più di qualsiasi altra persona al mondo ed era vero dopo un mese di questa follia le esigenze dell'altra sua vita costrinsero tra iago a prestare particolare attenzione a una signora di sua conoscenza potete star certi che una cosa di questo genere non viene notata e discussa solo all'interno della comunità europea ma anche da un centinaio e mezzo di indigeni triago doveva andare a passeggio con questa signora e conversare con lei presso il palco della banda e una volta o due dovete accompagnarla in calesse tutto questo lo fece senza mai pensare per un solo istante che potesse compromettere la sua vita segreta a lui ben più cara ma la notizia volò nel solito modo misterioso di bocca in bocca finché la vecchia governante di bisessa la sentì e la riferì a bisessa la fanciulla ne fu così turbata che fece malamente i lavori di casa e di conseguenza venne picchiata dalla moglie di durga charan una settimana dopo bisessa accusò tra iago di questo flirt non conoscendo sfumature parlò apertamente triago rise e bisessa batte i piedini per terra i piedini delicati come calendule che potevano stare nel palmo della mano di un uomo molto di ciò che è stato scritto sulla passionalità e l'impulsività degli orientali è esagerato e frutto di informazioni di seconda mano ma un poco è vero e quando un inglese scopre quel poco si accorge che altrettanto sorprendente di una qualsiasi passione vissuta da un uomo della sua stessa razza bisessa si infuriò fece una scena e alla fine minacciò di uccidersi se tra iago non avesse lasciato immediatamente la mem sahib straniera che si era frapposta tra loro tra iago cercò di spiegare e di dimostrarle che lei non capiva queste cose da un punto di vista occidentale gli stessa si alzò in piedi e disse semplicemente no non capisco io so solo questo non è bene che abbia fatto di te una cosa più cara del mio stesso cuore sahib tu sei un inglese mentre io sono soltanto una ragazza di colore ed era più bionda dei lingotti d'oro della zecca e la vedova di un uomo di colore poi aggiunse tra i singhiozzi sulla mia anima e sull'anima di mia madre ti amo a te non accadrà nulla di male qualunque cosa possa succedere a me tra iago discusse ancora con la fanciulla cercando di calmarla ma lei sembrava turbata in maniera del tutto irragionevole nulla poteva soddisfarla se non la completa cessazione dei loro rapporti lui doveva andarsene immediatamente e così fece mentre si calava dalla finestra lei lo baciò due volte sulla fronte e lui tornò a casa alquanto stupito passarono una settimana due tre settimane senza alcun segno da parte di bisessa tra iago pensando che la rottura fosse durata abbastanza si recò nel vicolo di amirnat per la quinta volta in tre settimane nella speranza che i suoi colpetti sul davanzale della grata mobile ricevessero una risposta infatti non venne deluso c'era una luna giovane e un fascio di luce inondava il vicolo di amirnat colpendo la grata che venne rimossa mentre lui bussava dalla nera oscurità bisessa tendeva le brazza al chiaro di luna entrambe le mani erano state recise ai polsi e i moncherini erano quasi guariti allora mentre bisessa chinava il capo tra le brazza e s'inghiozzava nella stanza qualcuno grugnì come una bestia selvaggia e qualcosa di accuminato coltello spada o lancia venne scagliato contro la burca di treiago l'arma mancò il busto ma raggiunse un muscolo dell'inguine ed egli zoppicò leggermente per il resto dei suoi giorni la grata ritornò al suo posto dall'interno della casa non venne alcun segno null'altro che la striscia di luce lunare sull'alto muro e l'oscurità del vicolo di amirnat alle spalle la prima cosa che treiago ricorda dopo aver perso la testa e gridato come un pazzo tra quelle mura spietate è di essersi trovato in prossimità del fiume mentre stava albeggiando e aver gettato via la burca ed essere tornato a casa a capo scoperto come fosse avvenuta la tragedia se bisessa in un momento di disperazione senza motivo avesse raccontato tutto o se la tresca fosse stata scoperta e la fanciulla costretta a parlare sotto tortura se durga charan sapesse il suo nome e cosa avvenne di bisessa treiago non lo sa ancora oggi era accaduto qualcosa di orribile e il pensiero di ciò che può essere stato coglie ogni tanto treiago nella notte e li tiene compagnia fino al mattino un aspetto particolare della vicenda è che lui non sa dove sia la facciata della casa di durga charan può dare su un cortile comune a due o più case o può trovarsi dietro uno qualsiasi dei due cancelli del bustè di città meggi treiago non può dirlo e non può riavere bisessa la povera piccola bisessa la perduta nella città dove la casa di ogni uomo è sorvegliata e impenetrabile come la sua tomba e la grata che guardava sul vicolo di amirnat è stata murata ma treiago compie le sue visite regolarmente ed è considerato una persona assai rispettabile non v'è nulla di strano in lui tranne una lieve rigidità della gamba destra conseguenza di una caduta da cavallo grazie 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 grazie